Si spacca il PD a Pescara, una frattura nata dopo la nomina dell'assessore Laura Di Pietro, sconosciuta ai consiglieri di maggioranza fino a poche ore prima dell'ufficializzazione e ora i rapporti si sono fatti più difficili. Noi abbiamo appreso con sorpresa la nomina dell'assessore Di Pietro poche ore prima, senza alcun confronto interno alla maggioranza, senza alcun confronto interno al partito e soprattutto al di là delle promesse che aveva fatto il Sindaco per il rilancio dell'azione amministrativa del Comune. La critica non è alla persona Laura Di Pietro, nei confronti della quale non c'è assolutamente nessun tipo di astio, anzi le auguriamo, io personalmente le auguro buon lavoro, ma nel metodo che si è seguito, in quanto il Sindaco aveva annunciato un rilancio dell'azione amministrativa con la nomina di un assessore di peso per rilanciare l'urbanistica, che è un settore che è rimasto sguarnito per un anno di amministrazione, Una nomina che non soddisfa l'annuncio del rimpasto di giunta, infatti ambiva a dare un nuovo slancio anche d'immagine all'amministrazione di Pescara, slancio che ancora non sembra arrivare. Ci chiediamo questo rilancio amministrativo in base a che cosa? In base alla nomina di un assessore così, solo per riempire il quadro della giunta, peraltro non ci è piaciuto il metodo in quanto ci si è arrivati tramite accordi tracorrenti e questo non è assolutamente il nostro modo di fare politica. Noi un anno fa c'eravamo candidati con tutti altri presupposti per dare un cambiamento alla città e per portare avanti il merito e la competenza e non l'accordo tra politici, l'accordicchio che porta a accontentare qualcuno, ma a scontentare poi la maggioranza di consiglieri.